Oggi è una giornata memorabile, il 28 aprile sarà da ricordare perché è una giornata dedicata all'autismo, calciamo l'autismo. L'associazione Abilmenti Uniti che rappresento insieme ad altri genitori ha voluto fortemente questa iniziativa. Insieme all'istituzione, al Consiglio Comunale, al Consigliere Foggia, all'assessore Bilardello, abbiamo creato questa bellissima occasione d'incontro tra squadre, tra i club del Milan, Inter e Juve. È una giornata di tifo perché ci saranno delle tifoserie, infatti ringrazio tantissimo le scuole che hanno voluto aderire quest'oggi, le persone che sono venute numerose per raccogliere questo grande evento. Io sono molto emozionata perché comunque l'autismo mi tocca anche da vicino. Il nostro obiettivo è quello di rendere lo sport inclusivo, di far partecipare i ragazzi con disturbo dello spettro autistico in un contesto di gioco e di sport insieme ai normodotati. Il calcio è fondamentale per la crescita di tutti, a prescindere dalle differenze. Voglio ringraziare di nuovo tutti coloro i quali hanno voluto collaborare insieme a noi, alle istituzioni, a Francesco Foggia, all'assessore, al presidente del Consiglio Gancitano, insieme anche all'assessore Adele Spagnolo, alle politiche sociali, all'assessore Monteleone. E tutti coloro veramente che ci hanno dato una mano a sostenere questa bellissima iniziativa. Allora direi che diamo un calcio all'autismo, anzi calciamo l'autismo. Una bellissima giornata all'insegna dello sport dei grandi valori umani. Oggi siamo qui, presso il Stato di Nuova Cara, ad onorare la disabilità. Io ho sempre detto che la disabilità la reputo comunque una risorsa umana. Devo ringraziare la situazione di Abbimento Uniti che ha sostenuto un'importante iniziativa, ha avuto un'idea brillante e grazie al sostegno dell'amministrazione comunale, al mio supporto e soprattutto alle attività commerciali come la carrozzeria Frazzetta. Abbiamo realizzato tutto ciò. Devo ringraziare gli attori principali, quindi il Club in Milano di Mazzatevallo, l'Inter Club di Mazzatevallo e l'Oiundus Club di Mazzatevallo. Il sociale non ha colore di appartenenza. Siamo qui con le tre società che rappresentano l'Italia nel mondo. È un piacere oggi essere qui, mi ci fa piacere avere tanta gente fra gli asfalti. Ringraziamo i dirigenti scolastici che hanno permesso di portare qua tutti gli alunni e assistere a questo spettacolo. Naturalmente noi ci abbiamo messo il cuore, infatti si chiama la parte del cuore. Stiamo dando un calcio all'autismo tutti insieme e questa è nella prova. Ringrazio anche voi che date comunque testimonianza del grande impegno che mettiamo per questa città. Questa è la Mazzara che voglio, questa è la Mazzara che amo, questa è la Mazzara che vogliamo. Come Presidente dell'Associazione Corro per Dà sono felice ed orgoglioso di essere stata invitata all'Associazione Abilmente Uniti a partecipare a questo evento direi molto molto importante. L'Associazione Corro per Dà quando c'è sport è presente, quando c'è sport inclusione è sempre presente. E siamo felici ed orgogliosi di portare avanti questi progetti sempre con la collaborazione di altre associazioni come l'Associazione Abilmente Uniti. Siamo qui oggi riuniti per una cosa molto importante, una giornata per il sociale, siamo molto contenti. Queste manifestazioni dovrebbero esserci sempre per l'Unione. Ringraziamo a tutti la città di Mazzara del Vallo, il Comune e speriamo che sia un giorno di festa per tutti. Grazie. Buongiorno, siamo all'Innovacara, è una bellissima giornata di festa e una bellissima giornata di beneficenza. Un ringraziamento particolare a tutte le istituzioni presenti, all'amico Ciccio Foggia in qualità di socio del UI Club e anche come figura istituzionale. Un ringraziamento particolare infine per l'Associazione che ha organizzato questa bellissima giornata di festa e di raccolta fondi. Volevo soltanto ringraziare tutte le persone che si sono adoperate affinché questa manifestazione potesse avere regolare svolgimento. A cominciare dal nostro assessore allo sport Vito Billardello e anche per l'impegno profuso dall'amico Francesco Foggia. Mi auguro che in futuro manifestazioni del genere possano verificarsi sempre di più, perché un giorno di sport tutti insieme è una bellissima cosa. Una bellissima giornata di sport questa mattina qui allo stadio Innovacara. Lo sport ha una grandissima forza, come diceva Mandela, ha la forza anche di cambiare il mondo. E penso che dobbiamo noi proprio utilizzare questo strumento importante per cercare di raggiungere importanti risultati e obiettivi anche nella società, come è la data odierna. Oggi abbiamo fatto sport, ma soprattutto abbiamo fatto sociale. Abbiamo organizzato un importantissimo e divertente triangolare tra le associazioni del Milan e dell'Inter e della Juventus Club di Mazzara del Vallo per una nobilissima causa, che è proprio quella dell'autismo. E' importante utilizzare questo strumento per cercare sempre di più di aiutare chi è in difficoltà e di aiutare il prossimo. Iniziative del genere devono sempre di più ripetersi nella nostra città e l'amministrazione comunale è ben lieta, orgogliosa e contenta di accogliere sempre di più questi eventi che sono sicuramente meritevoli e nobili nel loro fine. Bellissima iniziativa oggi a Mazzara, onorato di partecipare in qualità innanzitutto di tifoso della Juve e cittadino di Mazzara. Quindi una giornata meravigliosa, daremo tutto e cercheremo di portare alti i colori della nostra grande Juve. Io, maestro Picchi di Mazzara del Vallo, oggi sono contento di vedere tutti questi ragazzi che stanno giocando col cuore, davvero, non dire, poi è una società che si aiutano tutte con gli altri e anche Mazzara sta aiutando a tutti questi giovani. Sì, maestro Picchi di Mazzara, onorato di Mazzara, onorato di Mazzara, onorato di Mazzara. Abrazzami con la nera, onorato di Mazzara, onorato di Mazzara. E' il primo canzificato! 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 Abbracciami con la mente, sbagli, danze, salite, dimmi chi sei e ci crederò, musica te. Grazie a tutti.